Desiderosa di fare l'attrice sin dalla tenera età riesce ad entrare a far parte della compagnia teatrale di Edoardo De Filippo. La leggenda metropolitana dice che spiasse di nascosto Edoardo durante le prove al Teatro San Ferdinando. Ha debutato con lui nel 1969 in Le bugie con le gambe lunghe, arrivando poi a firmare il primo contratto maggiorenne. Il 19 aprile 1972, giorno in cui compiva 21 anni, proprio in questi primi anni ha preso parte. Il ruolo di comparsa, ha molte trasposizioni televisive delle sue opere trasmesse dalla RAI. Nella seconda metà degli anni 70, nel decennio successivo acquisisce molta popolarità lavorando a fianco di Renzo Arbore e in quelli. Della notte, 1985, e con Raffaella Carrà nello show di prima serata Buonasera Raffaella andato in onda tra il 1985 ed il 1986. In seguito, ha riscosso successo in qualità di conduttrice in trasmissioni come Marisa Lanuit del 1987, sempre sotto la guida di Arbore. E l'edizione 1988-1989 di Domenica in, diretta da Gianni Boncompagni, dove cantava anche la sigla Ma le donne. Riscuotendo molto successo, nel 1987 e nel 1990 ha anche presentato due edizioni del Varietà del Sabato Sera di RAI 1. Fantastico, la prima accanto ad Adriano Celentano e la seconda accanto a Pippo Baudo. Il successo televisivo è culminato, nel 1989, con la vittoria del Telegatto come personaggio televisivo femminile dell'anno. In questi anni viene anche imitata dalla comica Cinzia Leone in alcune trasmissioni satiriche di, RAI 3 come la TV delle ragazze. Scusate l'interruzione ed avanzi, nei primi mesi del 1992 presenta con successo serata d'onore. Varietà di prima serata di RAI 2 in 12 puntate in cui si celebravano le carriere artistiche di, celebri personaggi della musica, del cinema e della televisione. Nell'autunno dello stesso anno passò alla Fininvest, l'attuale Mediaset, dove ha condotto su Canale 5 al fianco di Ezio Greggio il Varietà di Antonio Ricci. Paperissima ha, senza raggiungere però lo stesso successo delle edizioni precedenti condotte da Lorella Cuccarini. E Marco Columbro, nel 1993 tornò in RAI dove prese parte al Varietà Domenicale di RAI 2 Pomeriggio in Famiglia. Condotto assieme a Paola Perego ed Alessandro Cecchi Paone. Per la regia di Michele Guardi. Il Varietà a causa della forte controprogrammazione di RAI 1. Domenica in, RAI 3, quelli che, il calcio, e Canale 5. Buona Domenica, non otterrà molto successo e sarà chiuso dopo una sola stagione. Nel 1994 tornò in Fininvest per presentare il programma di Canale 5 donne dell'altro mondo. Soppresso dopo poche puntate a causa dei bassi ascolti. Nel 1995 condusse in prima serata il sabato sera su RAI 1 il Varietà Caro Bebè affiancata dai. 3-3, anche questo show non fu particolarmente fortunato, venendo chiuso dopo poche puntate per bassi ascolti. Dal 1996 al 2000 è stata la conduttrice della Kermess musicale estiva di RAI 1 Napoli prima e dopo. Dedicata alla canzone partenopea, nell'estate 2000 condusse, sempre su RAI 1. Anche lo sfortunato quiz dell'accesso primetà impiazza la domanda. Soppresso dopo poche settimane a causa dei bassi ascolti. In seguito ad un lungo periodo di inattività televisiva. Nel 2005 è tornata a collaborare con Renzo Arbore nel suo nuovo programma speciale per me meno. Siamo meglio stiamo, trasmesso il sabato in seconda serata su RAI 1. Dal 2010 al 2012 ha condotto il programma culinario pasta. Love e fantasia sul canale satellitare Alice Home TV. A partire dall'11 giugno 2012 è una delle conduttrici di Vero Capri. Canale del digitale terrestre presente al numero 55. Con i programmi cucina, storie, casa, viaggi, hobby, trucco e bellezza e salute. Affiancata da Marco Columbro, Corrado Tedeschi, Laura Freddi, Margherita Zanatta, Maria Teresa Ruta e Dalba Parietti sotto la direzione artistica di Maurizio Costanzo. Nell'autunno 2013 Vero Capri. A seguito degli scarsi ascolti registrati. Abbandona la vocazione generalista per trasformarsi in un canale tematico in cui vengono trasmesse, esclusivamente telenovelas, liquidando così tutti i conduttori che aveva ingaggiato. Compresa la Laurito. Dall'autunno 2013, dopo la fine del suo rapporto con Vero TV, Marisa Laurito è diventata una delle conduttrici del programma I fatti vostri in onda su RAI 2. Nel quale si occupa della rubrica di cucina. Nell'autunno del 2014 è una delle concorrenti della decima edizione del talent show di RAI 1. Ballando con le stelle condotto da Millie Carlucci. Venendo però eliminata già nella prima puntata. Per poi essere ripescata nella quarta puntata col ballerino Stefano Oradei.